Io sono un giocatore che faccio anche delle partite con il mio agonismo, però io credo che anche i miei compagni lo dimostrano in maniera diversa, però anche i miei compagni lottano su ogni pallone, magari a volte io sono un po' più eccessivo, a volte mi devo anche trattenere un po' di confronto ai miei compagni, però ripeto, questo è un gruppo, dal primo all'ultimo, che lotta su ogni pallone. Credo che comunque dobbiamo continuare su questa strada qua, è vero che siamo in momento di difficoltà, dobbiamo chiuderci tra di noi e lottare ogni domenica per cercare di portare i più punti possibili da qua a fine campionato. Secondo me è anche un momento che ci gira un po' male, perché comunque a volte negli episodi guarda domenica abbiamo preso un tiro da tre quarti e abbiamo fatto gol, poi dopo sinceramente abbiamo creato, magari in questo momento ci manca anche un pizzico di fortuna che magari in altre partite ci è andata meglio, ma pareggiando le partite magari al novantesimo. In questo momento siamo un po' in difficoltà, ripeto, anche perché i risultati comunque non ci stanno dando bene, quindi sai, poi prendi i gol e non è sempre facile andare a recuperare. Però ripeto, siamo un'ottima squadra, è vero, ora giustamente ci prendiamo le nostre critiche, tutto quello che volete, però dobbiamo continuare, non pensare a nessuno, e stare a fare la funzione, cioè dentro Spolato e cercare di creare uno spirito per andare a cercare di fare il più punti possibili. Io sono fiducioso e quest'anno ne usciamo la grande secondo me, anche se non siete convinti, però va bene così, mi fate queste facce così, però va bene.